Alessandro Neri aveva una visione anche ambiziosa che puntava a fonti di reddito anche attraverso attività alcune certamente lecite e altre un po' al limite della liceità e la contiguità in me con le persone che oggi sono state arrestate in qualche modo fa ritenere che ci fossero anche delle compartecipazioni di carattere economico soprattutto. Era coinvolto anche Alessandro Neri nel giro di spaccio di stupefacenti sgominato dall'operazione dei carabinieri di Pescara che ha portato all'arresto di sei persone indagandone altre dodici. Per i carabinieri era attento e premuroso ma contiguo al mondo dello spaccio pescarese Alessandro anche se non ci sarebbe alcun collegamento con il suo omicidio avvenuto a colpi di pistola lo scorso 8 di marzo in un torrente della periferia di Pescara a pochi passi dal cimitero tre giorni dopo essere scomparso. Gli investigatori infatti hanno spiegato che il ragazzo avrebbe avuto il ruolo di finanziatore del giro di spaccio nel capologo adriatico forse per aiutare economicamente la famiglia. A collegarlo agli arrestati una pistola acquistata assieme a Junior Insolia. Dalla indagine emerge anche e ciò è scritto nel provvedimento di custodia cautelare che la vittima Alessandro Neri aveva partecipato almeno a quanto risulta dalle risultanze che sono provenienti dai comportamenti e dagli atteggiamenti degli arrestati, in particolare di uno degli arrestati che aveva effettivamente comprato insieme ad un altro arrestato che è appunto Insolia Junior una pistola. L'operazione denominata Satellite ha preso il via proprio dalle indagini sulla morte del ragazzo di Spoltore e il suo nome deriva dal fatto che esistevano diversi e numerosi poli di spaccio collegati tra loro come se fossero dei satelliti. Il volume di affari accertato degli inquirenti era di decine di migliaia di euro la settimana. I gruppi che gestivano il giro di droga erano pericolosissimi per l'uso spregiudicato delle armi e per la facilità intimidatoria con la quale si approcciavano al mondo della droga. Erano dediti abitualmente a girare armati con pistole e hanno dimostrato anche di avere una disponibilità che nel tempo si è affermata di armi anche di diverso tipo e di diverso calibro. In manette sono finiti Junior e Jordan Insolia, Marco Lapenta, Giulia e Flaviano Spinelli e Cristiana De Santis, tutti con precedenti. L'inchiesta, al di là del suo valore attuale, costituisce un tassello importante per far luce sulla morte di Alessandro Neri, ancora avvolta nel mistero. Pensiamo di avere in qualche modo messo a fuoco una parte importante dell'indagine e quindi in questa direzione continueremo a scavare, continueremo a investigare perché su questo delitto si possa fare piena luce.